salve sono nick in cosa posso esserle utile si salve e no la chiamo perché niente non mi funziona da un paio d'ore internet e non riesco a navigare bene e ho provato già qualche volta a resettare ma un attimo da te se la faccio subito parlare corresponsabile si perfetto in linea grazie salve signor simone è ancora in linea ma si salve sono passati da cinque anni da quando mi avete detto di aspettare si ehi nel lettere non fusione ma nonna voi mi avete fatto perdere la nascita di mia figlia di mio il mio matrimonio non ce la faccio più non non ho manco potuto fare gli auguri di buon compleanno all'altra mia figlia e perché e come perché perché manco su facebook le posso fare che non mi funziona internet si si mi verrebbe voglia di suicidare no guardi mi sa che ho sbagliato numero il numero adatto per i depressi e i disadattati è il nostro cento cinquecento novecento quattrocento cinquecento grazie a rivederci ma... 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 ma...